ora questa femmina che vi sto facendo vedere in questo video ha un mantello bellissimo ma la sua morfologia è eccellente ma non è la caratteristica che spicca in questo cane è una femmina veramente ottima è stata la prima a segnalare l'estraneo quando era cucciola ha un portamento al guinzaglio molto sicuro di sé è un cane di ottima qualità con la differenza che la bellezza è evidente il carattere lo scoprirete pian piano potete metterla con un maschio anche di forte carattere non credo che subirà per molto tempo la predominanza di questo maschio anche se inizialmente si sottometterà e bisognerà vedere il ruolo di branco di questo maschio vedere che tipo di dominanza e tante altre cose è la più forte della cucciolata quella che decide anche se femmina come deve andare il branco di un soggetto che ne vale veramente la pena avere in un giardino guardate che andatura a lei non gli scappa nulla molto coraggiosa è una delle femmine che io chiamo di prima scelta caratteriale perché uno investe veramente nella qualità di un cane per essere un pastore dell'asia centrale aborigeno veramente un ottimo fisico e genitori hanno comunque una bella morfologia lei diventerà oltre ad essere molto affettuosa con il proprietario una guardiana infallibile la prima volta che viene in questo territorio si muove in modo molto sicuro è veramente molto bella molto agile la tigratura nel pastore dell'asia centrale ultimamente poco diffusa perché si sono fatte le selezioni che si sono scostate molto da quello che era il cane aborigeno quello che lavoravano i pascoli lei ha mantenuto così come anche altre cuccioli proprio tutte le caratteristiche bella molto rustica magari si infanga completamente il giorno dopo strisciandosi in terra si è di nuovo pulita questo bianco che era marrone ritorna di nuovo bianco veramente incredibile questa caratteristica come tutti gli animali selvatici di non essere mai lavati e di mantenere sempre il loro mantello impeccabile adesso sono in fase di permuta ma presto adesso ha capito che parla di lei ma presto avranno un pelo lucidissimo date che spettacolo Grazie a tutti.